Ricostruzione a San Severino, gli studenti dell'ITC Divini protestano per riavere la loro scuola al grido di divini ma non divisi. Le macerie del terremoto risorgono come la Fenice, serviranno per ricostruire strade ed edifici pubblici e privati. Massimo Rogante è il nuovo presidente della Cosmari, azienda del maceratese in recupero e trasporto rifiuti. Sfidando il meteo sono tanti marchigiani che in queste ore si mettono in viaggio per sfruttare a pieno il ponte di Ogni Santi. Buonasera e bentrovati per questa seconda edizione di All News. Lo avete sentito nei titoli al grido di ricostruiamo la nostra scuola e divini ma non divisi gli studenti dell'Istituto Tecnico-Tecnologico Statale di San Severino Marche. Ieri mattina in occasione dell'anniversario del terremoto del 2016 sono scesi in strada per protestare contro la mancata ricostruzione della nuova scuola. Manolita Scocco. Un corteo pacifico è partito dal plesso Luzio, sede provvisoria di gran parte delle classi e delle specializzazioni che il Divini conta e si è diretto fino al piazzale del nuovo plesso in Viale Mazzini. In testa al corteo il dirigente scolastico, il professor Sandro Luciani e tanta politica, tra cui il sindaco della città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, con la fascia tricolore e con il gonfalone. Nonché presenze che non sono passate inosservate, quelle dell'arcivescovo di Camerino San Severino Marche, Monsignor Francesco Massara e l'arcivescovo in merito di Ancona Osimo, il cardinale Edoardo Menichelli. Sette anni dal sisma, sette anni in cui non siamo più in questo istituto, è un'educazione civica, sì, imparare a farci sentire senza protestare, senza fare cose che non sono civiche. Però siamo qui anche per dire basta, perché è ora di averlo. Sono sette anni che doveva essere ricostruito dopo un anno. La burocrazia e il modo in cui sono state assegnate con l'ordinanza queste scuole, che erano 21 e credo solo due piccole scuole sono riuscite ad essere portate a termine. Noi abbiamo portato pazienza perché abbiamo sempre visto nei commissari che ne abbiamo cambiati cinque buona volontà, ripartiranno i lavori. Voi dovete essere vigili come siete sempre stati. Mi dispiace per chi quest'anno fa il quinto anno, perché vuol dire che non ha potuto godere della nuova scuola, ma ha lottato per chi è arrivato e quindi fanno le prime, ma poi chi arriverà. Al corteo si sono aggiunti anche tanti docenti e rappresentanti del mondo della scuola e i ragazzi e le ragazze di altre scuole della città. E rimaniamo sul tema ricostruzione perché le macerie del terremoto come risorsa e non come problema da risolvere. Una visuale diversa sul fronte della ricostruzione per un problema, quello delle macerie e del loro smaltimento, molto sentito da tutte le comunità coinvolte in un incontro promosso da Confartigianato Imprese. Si prospetta il loro utilizzo proprio per ricostruire. Manuela Cermignani. Economia circolare per rendere le macerie del terremoto una risorsa e non un problema, utilizzandole per costruire strade nell'edilizia, sia privata che pubblica, riducendo in tal modo il deposito in discarica. Così la Confartigianato Imprese Macerata ha organizzato ieri pomeriggio l'incontro, sette anni dal sisma, ciclo delle macerie e stato della ricostruzione. Presenti, oltre al segretario generale della Confartigianato Giorgio Menichelli, anche il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, il segretario generale di Fondazione Simbola, Fabio Renzi, e il presidente della regione Francesco Acquaroli. Le conclusioni affidate al commissario straordinario del governo per la ricostruzione, Guido Castelli. Ma la ricostruzione produce effetti economici rilevanti, quindi io ringrazio Confartigianato perché in questa occasione consente di fare il punto, tenendo conto di quelle che sono state le incertezze del passato, ma soprattutto orientando lo sguardo verso quegli aspetti dell'innovazione, dell'applicazione delle imprese, che possono fare della ricostruzione anche un'occasione di innovazione. Il campo dell'economia circolare delle macerie è una di quelle cose che può consentire al cratere di aggiungere a quelli che sono gli investimenti pubblici che alimentano la ricostruzione alcuni casi che potrebbero fare della nostra ricostruzione un esempio di economia circolare, di riutilizzo dei conglomerati e qui in generale di avanzamento tecnologico delle nostre imprese. Le imprese possono arricchirsi se appunto si connetteranno a questo obbligo di fare un salto di qualità. Non dobbiamo solo riparare le case, dobbiamo fare in modo che la nostra ricostruzione intercetti la grande transizione ambientale ed energetica, ad esempio quella digitale. L'ideale sarebbe che davvero si sperimentassero occasioni di riqualificazione delle case che aderendo a quelli che sono i principi dell'efficientamento energetico possano rendere il nostro patrimonio migliore, ma anche le nostre aziende più capaci di presentarsi nel mercato. A sette anni degli eventi drammatici che hanno colpito nel 2016 il centro Italia, oggi possiamo registrare una fase della ricostruzione che sta procedendo, sta procedendo la ricostruzione privata, sta procedendo la ricostruzione pubblica, stiamo cercando di mettere in campo tutte le risorse possibili e immaginabili anche per la rigenerazione socio-economica, ma soprattutto stiamo cercando di ricostruire le comunità, stiamo cercando di ricostruire con i servizi, con la tutela dei servizi, comunità che possano restare coese e soprattutto avere una prospettiva futura, un territorio che può tornare ad essere competitivo, che non deve essere i seri B, ma che addirittura deve diventare attrattivo per valorizzare quel grande patrimonio paesaggistico, artigianale, culturale, enogastronomico, agricolo, che può essere un fattore aggiuntivo rispetto al sistema competitivo marchigiano del centro Italia, che è composto dalle aree del cradale sismico del 2016 e dal nostro straordinario interterra. Bene, voltiamo pagina, cambiamo argomento, parliamo di un'azienda e di un consorzio, il Cosmary, che naturalmente punta su tariffazione più equa e sicurezza al primo posto. Il neopresidente del consorzio è un ingegnere per guidare i temi della raccolta e dello smaltimento rifiuti in provincia di Macerata. Manuelita Scocco ancora. È iniziata al Cosmary la presidenza tecnica dell'ingegner Massimo Rogante, civitanovese, esperto di sicurezza sul lavoro e di dismissioni delle centrali nucleari. Subito dopo il primo CDA con i suoi colleghi si è presentato alla stampa, un nome indicato direttamente dal sindaco di Civitanova, Ciarapica, che lo stesso Rogante ha ringraziato, dopo le dimissioni dell'ex presidente Giuseppe Pezzanesi, che non poteva ricoprire l'incarico in quanto sindaco di Tolentino, come confermato dal recente ricorso al Tar. Per il neopresidente tante le sfide e i nodi da sciogliere, a partire dall'individuazione della nuova discarica, quella di cingoli e in esaurimento, e verrà ampliata con una parte dei rifiuti che saranno portati a fermo a site. Il sindaco Fabrizio Ciarapica mi aveva consegnato nel marzo di quest'anno il premio Arte, Cultura e Solidarietà al Cineteatro Cecchetti. L'associazione Arte mi aveva prescelto per consegnarmi questo premio. Poi qualche giorno fa lui mi chiama e mi dice Guarda, vorrei proporla come presidente della Cosmari, se poi andrà in porto. Io rimasi così un po' sorpreso, però lui aveva letto il mio curriculum, diciamo no, conoscendomi, quindi presumo che si sia interessato alla mia persona, alla mia figura, e quindi io comunque non ho alcuna relazione, diciamo di livello politico, nessuna, non ho mai preso testa di alcun partito. E alla fine ho detto, dico va bene, andiamo, perché sono abituato io alle novità e ho abbastanza resilienza, diciamo presumo o spero di averla, per affrontare delle sfide, perché la vita è piena di sfide. Presente all'incontro i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Pubblica, Giuseppe Giampaoli, Vicepresidente Emanuele Piero Antoni, Elena Maria Sacchi, Silvia Sbriccoli e il Direttore Generale, Brigitte Pellei. Prevo molti organi all'ospedale Santa Croce di Fano, donati rene, fegato e corne. I familiari di una signora di 71 anni, ricoverata e deceduta ieri, giovedì 30 ottobre, in rianimazione, hanno consentito alla donazione degli organi. Sono subito iniziate le procedure di accertamento, l'attività di prelievo si è svolta nella lottata e si è conclusa in mattinata. Il blocco operatorio del Presidio Santa Croce di Fano, dell'AST di Pesaro Urbino, è stato approntato con un'equipe di professionisti, interamente dedicata proprio a questa operazione, composta da professionisti della rianimazione, della neurologia e dell'anatomia patologica e ovviamente con il supporto della direzione medica, che assieme anche alle equip esterne, intervenute per il prelievo di organi, hanno effettuato procedure di prelievo e di donazione degli organi con successo. Avanti con la Green Line, lo annunciano il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l'assessore alla Rapidità Mila della Dora, a seguito dell'approvazione in giunta dello schema di protocollo di intesa tra il Comune di Pesaro e Ferrovia dello Stato Sistemi Urbani per la riqualificazione e rigenerazione urbana connessa alla dismissione dell'attuale linea ferroviaria, nello specifico tra Fornace-Mancini e Fosso 6 Ore. Si tratta, spiegano l'assessore e il sindaco, di un accordo importante per il futuro della città, perché il documento appunto sposa due volontà. Da una parte quella di Ferrovia dello Stato di velocizzare la linea esistente spostando la ferrovia, ma anche quella di trasformare gli attuali binari in una Green Line, sempre questa un'idea caldeggiata dal sindaco Ricci. Una infrastruttura per l'idea di essere e anche destinata al trasporto pubblico green, locale ed elettrico, una lunghissima linea verde, dove potranno circolare mezzi pubblici elettrici, biciclette e pedoni. Un sogno che si sta sicuramente realizzando. Bene, ed ora parliamo di mobilità, ma mobilità di altro genere, quella che naturalmente spinge, sfidando il meteo, tanti marchigiani in queste ore a mettersi in viaggio per sfruttare a pieno il ponte di Ogni Santi. C'è chi parte, ma anche c'è chi arriva, perché c'è un turismo di incoming e quindi naturalmente per il fine settimana quali sono le previsioni? Lo ha chiesto Camilla Cataldo con l'aiuto di una esperta che finisce dati, meteo e anche regole per spostarsi in maniera sicura. Pronti? Si parte! Domani è il primo novembre e la festa è servita. Ponte di Ogni Santi, borghi e città d'arte le mete più gettonate nelle marche. Cultura e buona tavola, binomio vincente. Secondo le stime di Federalberghi Nazionale sono 8 milioni gli italiani in viaggio per il ponte. L'89,8% resta in Italia, mentre solo il 10,2% se ne va all'estero. Il giro di affari complessivo si attesterà su circa 3,77 miliardi di euro e la spesa media, comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, sarà sui 451 a persona. La nostra regione, scelta per le sue prelibatezze e bellezze anche dalla Premier Meloni, registra un buon via vai e le strade scorrevoli aiutano. Il traffico dei prossimi giorni ci viene illustrato dal commissario della Polizia di Stato Francesca De Luca, direttore dell'ufficio primo compartimento Polizia Stradale delle Marche. Mercoledì 1 novembre, dalle 9 alle 22 avremo il fermo dei mezzi pesanti, così come anche per domenica 5, sempre dalle 9 alle 22. Ipotizziamo che il pomeriggio di domenica sia una giornata di rientro, quindi ricordiamo di prestare molta attenzione. Per chi guida, fondamentale fare attenzione sulle strade, seguendo semplici e importanti regole. Ecco le raccomandazioni del commissario De Luca per gli automobilisti. La principale causa di incidentalizia stradale è la distrazione e la velocità in secondo posto, quindi raccomandiamo di non utilizzare il telefono alla guida, rispettare i limiti di velocità e soprattutto utilizzare le regole di prudenza generale. E per evitare troppe quattro ruote sul proprio tragitto è consigliabile la cosiddetta partenza intelligente. Sarebbe meglio mettersi in viaggio nelle prime ore per evitare il traffico di metà mattinata. E allora, buon lungoponte a tutti! Ancora un paio di notizie di cronaca. Mentre lavorava con i miei animatori in una struttura ricettiva della provincia di Perugia, avrebbe abusato di una bambina di sei anni, approfittando di una pausa lavorativa. Per questo, un trentenne di origini marchigiane è stato messo agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine dei carabinieri coordinati dalla procura del capoluogo Umbro. sullo smartphone dell'uomo sono state trovate un numero rilevante di immagini pedopornografiche come riferiscono gli inquirenti. È stato quindi accusato di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Ancora il commissariato di Polizia di Stato di Fabriano e quindi Forza di Polizia ha dato esecuzione a tre fogli di via obbligatori dal comune di Modena a tre fabrianesi, due ragazzi di 23 e 25 anni ed una donna di 31 anni disoccupati e con pregressi problemi giudiziari per i reati in materia di stupefacenti contro il patrimonio e contro l'ordine e la sicurezza pubblica. Senza previo avviso e valido motivo non potranno quindi più entrare a Modena se no rischiano sanzioni di natura penale non irrilevanti. Le fosse dell'ordine erano intervenute per evacuare l'immobile occupato dove si stava facendo un rave party il Wintex 2022 iniziato appunto il 29 ottobre dello scorso anno a cui hanno partecipato fino al 31 ottobre circa 300 giovani. Ed ora andiamo in regione è stata approvata maggioranza del consiglio regionale e la proposta di legge numero 51 sulla valorizzazione delle deco denominazioni comunali proposta dal consigliere regionale dei civici Marche Giacomo Rossi che lo aveva tra l'altro anche annunciato proprio qui ieri come ospite del nostro telegiornale All News. Sentiamo la sua dichiarazione a margine. È una legge che valorizza queste attestazioni che i comuni hanno nel tempo dato e stanno dando ai loro prodotti agroalimentari ai loro piatti tradizionali alle loro tradizioni e appunto questa legge tramite l'istituzione del registro regionale delle deco tende a disciplinare tutta questa materia e a valorizzare questi prodotti facendo sì che tutto questo mondo entri anche all'interno della promozione delle manifestazioni regionali all'interno dei canali social digitali della regione e quindi siamo contenti di questo risultato io per questo ringrazio i colleghi di maggioranza che hanno sottoscritto questa mia proposta di legge è un inizio una proposta di legge che sarà anche finanziata da come ha detto il consiglio l'assessore al bilancio quindi si prevederanno nei prossimi anni anche delle risorse quindi ecco lavoriamo per il nostro territorio e per la valorizzazione dei nostri prodotti tipici sappiamo quanto l'eno turismo e insomma il turismo gastronomico sia importante per i flussi in una regione che ha tante peculiarità e tante eccellenze enogastronomiche come le Marche bene cambiamo argomento in chiusura lo sappiamo tutti ormai lo sanno appunto anche le pietre questa sera è la sera è la nottata di Halloween per la gioia di grandi e piccini e quindi via a tormentoni dolcetto scherzetto tripudio di zucche vuote con i lumini ma perché queste cose insomma lo scopriamo in questo servizio si pensa che Halloween sia una festa nata negli Stati Uniti d'America tutti infatti abbiamo visto al cinema o alle tv i festeggiamenti oltreoceano ma le radici di Halloween non sono negli USA si ritiene che le origini siano in Europa più precisamente in Scozia dove sembra che già intorno al 1795 si sia iniziato ad usare il termine All Hallows Eve e cioè vigilia di ogni santi poi diventato appunto Halloween per molti studiosi l'origine di Halloween ha radici ancora più lontane però infatti non si tratterebbe di una tradizione cristiana ma piuttosto celtica Halloween prenderebbe origine dall'antica festa di Samhain quando i romani poi conquistarono le terre celtiche eliminarono tutte le feste pagane considerate opera del diavolo e nel momento in cui fu istituita ufficialmente la festa di tutti i santi i popoli che continuavano a festeggiare l'antico Samhain spostarono al 31 ottobre la ricorrenza fu solo nel corso dell'ottocento in seguito alla grande migrazione di irlandesi verso gli Stati Uniti che le celebrazioni di Halloween si diffusero nel nuovo continente e presero la forma che tutti noi oggi conosciamo nell'iconografia halloweeniana c'è la famosa litania dolcetto scherzetto ma da cosa nasce questo dilemma straziante alcune teorie sostengono che la tradizione di dolcetto scherzetto sia nata in epoca medievale quando i mendicanti bussavano alle porte e chiedevano cibo in cambio di preghiere per le anime dei morti se non avessero ricevuto niente in cambio avrebbero promesso sfortuna e sciagure l'usanza è stata poi esportata negli Stati Uniti dove è diventato il famoso trick or treat altra immagine iconica di Halloween le zucche ma da dove arriva questa usanza anche in questo caso benché siano gli Stati Uniti ad aver diffuso a livello mondiale l'uso delle zucche per Halloween l'origine di Jack O'Lantern è irlandese la leggenda racconta che il fabbro Stringy Jack che non era proprio uno stinco di santo una volta morto proprio il 31 ottobre per farsi luce agli inferi usò una zucca vuota come lanterna ecco perché nei giorni che precedono Halloween e soprattutto nella notte del 31 ottobre si usa accendere lumini all'interno delle zucche intagliate con sembianze mostruose bene speriamo di aver fatto un po' di chiarezza su questa festa così inserita di prepotenza nel nostro calendario intanto invece continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutte le Marche le province di Macerata di Piceno e Fermo naturalmente anche in parte quella di Ancona con squadre dei Vigili del Fuoco impegnate in centinaia di interventi tanti ancora sono quelli in coda proprio per il vento forte che insomma è stato annunciato in un'alerta di colore arancione dalla protezione civile delle Marche e sta comunque ancora causando problemi e insomma tanti interventi dei Vigili del Fuoco in queste ore per smaltire tutto quello che è stato combinato dal vento caduta alberi grondaie cornicioni tetti insomma veramente non si sono fatti mancare niente questo è tutto per questa sera il sommario di questa seconda edizione ricostruzione a San Severino gli studenti dell'ITC di Vini protestano per riavere la loro scuola al grido di divini ma non divisi le macerie del terremoto risorgono come la Fenice serviranno per ricostruire strade ed edifici pubblici e privati Massimo Rogante è il nuovo presidente della Cosmari azienda del maceratese in recupero e trasporto rifiuti sfidando il meteo sono tanti marchigiani che in queste ore si mettono in viaggio per sfruttare a pieno il ponte di Ogni Santi bene questo è quanto dopo la sigla naturalmente il meteo e poi all sport dalla redazione di Recanati per gli aggiornamenti sportivi bene è tutto per questa sera grazie l'informazione torna domani arrivederci amici trevi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà arrivare una nuova perturbazione sull'Italia arriva dal Mediterraneo occidentale ma dietro di lei sono pronti altri sistemi nuvolosi insomma periodo particolarmente variabile con perturbazioni alle volte anche molto intense quella di questo mercoledì non sarà particolarmente cattiva ma riporterà nuvole in gran parte d'Italia come vediamo da queste immagini e riporterà anche della pioggia in particolare sulle regioni tirreniche precipitazioni comunque in questa fase non particolarmente intense e cattive quindi per questo mercoledì prevediamo un peggioramento del tempo dicevamo soprattutto sul Tirreno con queste piogge dalla Liguria fino ad arrivare alla bassa Campania e poi col passare delle ore qualche goccia potrebbe raggiungere anche l'Emilia Romagna e le Alte Marche e a fine giornata anche parte delle regioni di Nord Ovest per sapere per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi consultate l'app di Trebi Meteo di Trebi di Trebi di Trebi